ragazzi ma benvenuti in questo gruppo whatsapp ma io sono felicissima io vi ringrazio un evento nato davvero così dal nulla con alcune ragazze già presenti su questo gruppo è diventato una un bel momento di condivisione da da vivere insieme veramente grazie a tutti vi do giusto qualche indicazione giuro non parlo troppo state in vacanza lo so giusto 23 indicazioncine per farvi entrare nella filosofia proprio della di questi tre giorni non è una un periodo in cui ci saranno da fare ricette elaborate procedimenti un pochino più lunghi che magari potremo fare più in là è una tre giorni che vorrei fosse all'insegna proprio della semplicità di ciò che mangiamo del relax di non dover avere la lista della spesa da comprare quello che serve mille mille ingredienti non servono e soprattutto del benessere quindi prima di tutto le indicazioni che leggete ovviamente adattatele a voi nel rispetto del vostro corpo del vostro sentire se volete sostituire ingredienti lo potete fare non entrate in paranoia se non trovate magari quel nell'ingrediente nella ricetta piuttosto che un altro non c'è problema è proprio un modo soft morbido di avvicinarsi all'alimentazione naturale e cruda in un periodo di vacanza stiamo al mare stiamo in montagna mettere in mezzo ricette troppo elaborate e ripeto lo potremo fare perché posso inondarvi di ricette questi tre giorni veramente di relax e zero sbatti all'opzione non ho utensili quindi non so come fare in questo il monofrutto mezzo melone spaccato in spiaggia e mangiato con il cucchiaio solo con un coltello per tagliare le fette è top opzioni magari un pochino più elaborate se avete a disposizione un frullatore o magari anche l'estrattore c'è anche la possibilità ovviamente di inserire una parte di cibo cotto magari da sera che sarà il pasto che uno si gode un pochino di più ho voluto darvi più opzioni anche perché potete poi tenere queste ricette queste idee anche per quando tornate a casa quindi mi faceva piacere dare anche una continuità vi aspetto da lunedì su questo gruppo vi chiedo la cortesia di utilizzarlo in maniera consapevole nel senso leggete bene la guida se avete dubbi informazioni e ovviamente chiedete ma cerchiamo di evitare che diventi magari un gruppo proprio svuota batteria anche perché siamo fuori siamo in giro ricaricare poi diventa diventa un casino nel rispetto di barbara e di leonora che mi stanno dando una mano e che ringrazio nella gestione del gruppo all'interno della mini guida troverete anche dei link interattivi che vi portano direttamente sul mio canale youtube in cui potete trovare anche altre ricette smoothies di estratti del gelato di banane se volete farvelo avete modo di farvelo lì dove siete se non l'avete fatto iscrivetevi anche alla newsletter del drago parlante che è un blog un sito specializzato che parla di igiane naturale alimentazione naturale riceverete anche tre ebook che ho scritto gratuiti e che potete benissimo leggere sotto l'ombrellone se siete al mare o in un momento di sosta dopo una passeggiata in montagna scherzi a parte prendiamo questi tre giorni veramente come un momento per riassaporare il cibo vero per alleggerirci un po' in vista di ferragosto in cui difficilmente scamperemo a cene, cenette, pranzi, grigliate spero veg anche perché noterete che in questi tre giorni non ci sono praticamente proteine animali proprio perché è uno scarico, è una detossificazione naturale che offriamo al corpo io ho mandato tutto quanto con un pochino di anticipo in modo tale che avete modo di leggerlo se volete comprare qualcosa nello specifico se siete fuori e magari vi fa più comodo fare la spesa adesso rispetto che a domani e dal lunedì si parte quindi ci vediamo qui, ci vediamo su Instagram, ci vediamo grazie grazie